Si interrompe dopo nove risultati utili di fila la striscia positiva dell'Arezzo, che a Piacenza perde e rimonta contro la Pro e si rovina la vita con due cartellini pesantissimi. Dal canto aveva detto che non si fidava dei rossoneri né del turno infrasettimanale e la formazione ne è una conferma. In difesa gioca Borghini perché Pelagatti è squalificato, a centrocampo torna Basit, per il resto squadra tipo. I rossoneri vengono da quattro sconfitte di fila, Maspero opta per il 3-4-1-2. L'Arezzo parte bene e si costruisce subito l'occasione per passare in vantaggio. La palla di Buglio è deliziosa, ma Persano esita e quando riesce a calciare Bertozzi si oppore con il corpo. Gli Amaranto restano padroni del campo, la propria Cienza è in difficoltà e fatica. Il primo tiro è di Calombo al quarto d'ora parato da Pelagotti. L'Arezzo tiene costantemente l'iniziativa, Luciani a destra spinge, Buglio è pimpante anche se Rotti si muove meglio. L'unico vero pericolo cade al 35esimo quando Volpicelli e Scardina duettano bene dietro la linea difensiva dell'Arezzo. Borghini chiude la grande e concede solo un angolo, all'intervallo si va sullo 0-0. La ripresa comincia come meglio non potrebbe se Rotti finalmente lascia il segno sulla gara con un assist di qualità. Poi fa tutto buglio, controllo, sguardo al palo lontano, sinistro, potente e preciso. Bellissimo il gol, il quinto per lui in campionato che merita i festeggiamenti con la panchina e anche il replay. Tecnica e piede morbido risaltano dalla traiettoria che finisce sotto l'incrocio dei pali. Il vantaggio a Maranto però dura solo 8 minuti. L'edesma calcia dalla bandierina, Polverini la allunga sul primo palo e Nolè sul secondo brucia Luciani e la insacca di testa. La propria cenza torna in partita dal canto, toglie Brunori e inserisce Cutolo. L'Arezzo prova a riorganizzarsi facendo girare palla ma il vero episodio spacca partita. È un'ingenuità di Remedi che a centrocampo stende Luciani in questa maniera. Piede alto, entrata da dietro, Anna Loro non esita e gli mostra il rosso diretto. Sembra la svolta, invece Basit ci ricasca, Nolè affonde il tecle e il ganese lo colpisce al collo. Anche in questo caso l'arbitro non ha dubbi. Cartellino rosso, Basit fuori per la terza volta in campionato. In 10 contro 10 le squadre si riassestano e Sanseverino come Cutolo domenica taglia dall'esterno verso il centro del campo e poi infilza. Pelagotti dalla distanza e le golle che rovesce il risultato e anche lo stato d'animo delle due squadre. La propria scenza intravede la luce in fondo al tunnel, Foglia vanifica la possibilità di segnare subito il 2-2 e poi è un lungo monologo maranto con Edalcanto che fa debuttare Choi, il primo coreano a vestire la maglia dell'Arezzo. Ma a parte un colpo di testa di Persano, sull'etacquino finisce soltanto l'ammunizione per Pinto in zona Cesarini. Diffidato salterà l'entella domenica, l'ultimo sorso d'amaro in una giornata da dimenticare in fretta.